Vedremo questo teatrino per tutta la legislatura. È evidente che Giorgio Meloni, Matteo Salvini e Tajani hanno posizioni e culture molto differenti. Lo si vedeva nella passata legislatura. Due erano al governo, ora era all'opposizione. E' una coalizione, infatti. E' un partito. E quindi vedremo questo teatrino fino alla fine. Si malsopportano, lo sanno tutti, non si dice pubblicamente, ma si malsopportano. Certo, non come a sinistra. A sinistra sono campioni. A sinistra è sempre imbattibile. Non mi provochi. Ecco, no, no, sto dicendo una cosa. Manco questo. Detto questo, avevi ragione tu, quando dici sì, però in questo momento io chiedo al governo, non chiedo alle opposizioni. Le opposizioni si sono distratte, disordinate, a far loro. Io chiedo a chi in mano, diciamo, la macchina del vapore. A chi mi rappresenta? Perché il momento è molto delicato. È molto delicato su diversi fronti. Si sta ricostruendo un assetto mondiale. E l'Italia non è protagonista, dobbiamo dirlo. L'Italia, ogni presidente del Consiglio di turno, dice sempre che in quel momento il Paese è protagonista a livello internazionale. Non lo è mai. Lo è stato in alcuni casi. Pratica di mare con Berlusconi è stato un punto. Conte, quando ha preso le recovery, è stato un altro punto di grande forza internazionale. Altrimenti no. In questo momento il governo italiano marca visita su tutto lo scenario internazionale. Cioè è ininfluente più che a marcar visita. Io abito a Roma. Ma c'ha la televisione, i giornali e informato? No, no, vado col telegrafo ancora. Ah, e allora... Senta Gasparri, faccio finire una cosa. No, le faccio finire una cosa. Le mando qualche articolo. Il fatto che... Ed è il paradosso questo. Che sia Silvio Berlusconi prima che aveva ostentato la sua amicizia con Putin. Lo aveva definito un grandissimo statista. Lo ricordo male. L'amore di Salvini nei confronti di Putin. Bene, oggi ritrattano perché sono al governo. Ma sotto traccia c'è questa cosa. Chi è che si becca del putiniano? Si becca del putiniano chi ha sempre criticato Putin. E però adesso cerca di ragionare. Il mio giornale, sono andato a cercare nell'archivio Il Fatto Quotidiano. Non troverete una sola riga di elogio a Putin in 15 anni di esistenza del Fatto Quotidiano. Però i putiniani siamo noi. Diciamo che è un mondo del contrario. Non quello di Vannacci. Questo è il contrario. Allora, facciamo...